Nel rispetto dei valori educativi e sociali promossi dalla tradizione salesiana fondate sull'eredità di Don Bosco, le polisportive giovanili salesiane hanno dato vita alla terza edizione delle PGC di 2024 Campania, svoltesi per la prima volta dal 14 al 16 giugno nella splendida cornice di Monte Conce, nel cuore del Cilento. Il Comitato regionale Campania, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Monte Corice, retta dal sindaco Flavio Meola, ha ospitato nel corso della tre giorni tanti giovani provenienti da ogni angolo della regione, che si sono cimentati in più discipline come il calcio, calcio a 5, calcio camminato, mini basket, tennis, beach volley, tennis tavolo, calcio balilla ed il pickleball. Particolare attenzione anche quest'anno al sociale, grazie al progetto che le PGS stanno portando avanti a livello nazionale sullo sport inclusivo, che prevede la partecipazione di giovani diversamente abili o appartenenti a famiglie disagiate. Il cuore pulsante dell'iniziativa è stato il campo sportivo Luigi Piccirilli di Monte Corice, mentre il lungomare di Agnone Cilento si è trasformato in un vero e proprio villaggio sportivo, facendo divertire grandi e piccoli con il mini basket, tennis e pickleball. Diverse attività inoltre si sono svolte presso il Tattoo Club di Agnone Cilento. Un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati insieme al presidente PGS Campania Umberto Vona, il vicepresidente Gennaro Sbrescia, Sor Valeria Esposito ed i responsabili di settore per le varie discipline sportive. Vale a dire Milo Rinauro, Biagio Antignani per quanto riguarda il calcio, Gioacchino Coppola e Francesca Cucciniello per tennis e pickleball, Luigi Cangianiello, beach volley, Antonio Verrazzo, sport inclusivo, Biagio Romeo per il basket, Michele Lettera per il calcio a 5, i consiglieri Luca Corbo e Ugo Iannone, Mirko Corbo e Salvatore Amata. Durante questi giorni abbiamo visto non solo atleti competere con impegno e passione, ma anche famiglie, volontari e allenatori uniti da un unico obiettivo, vivere e condividere i valori della lealtà, del rispetto e della solidarietà. Il torneo ha offerto a tutti i partecipanti l'opportunità di confrontarsi in un clima di sana competizione, di stringere nuove amicizie, di rafforzare il senso di appartenenza a una comunità viva e inclusiva. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile l'evento e in primis a tutta l'amministrazione comunale di Monte Corice per l'ospitalità e la collaborazione, ha commentato il presidente di PGS Campania, Umberto Vona. Queste iniziative sportive contribuiscono infatti, in modo significativo, a valorizzare ulteriormente i nostri straordinari borghi e speriamo in futuro di poter realizzare un evento ancora più grande e coinvolgente. Questo è il commento del sindaco di Monte Corice, Flavio Meola.